Ora parliamo di farmaci perché ormai da qualche tempo scarseggiano le scorte nelle farmacie e per alcuni presidi, talvolta salvavita, è un problema grave, non si riescono proprio a trovare. A causare questa scarsità ci sono molteplici motivi, vediamo quali. Antipiretici, antinfiammatori, prodotti per aerosol, antibiotici, perfino antidepressivi. La lista dei farmaci introvabili nelle farmacie italiane è lunga. AIFA, Agenzia Italiana per il Farmaco, ha aggiornato l'elenco a fine anno. Per amoxicillina, uno degli antibiotici più usati, soprattutto in dosi pediatriche, la fine presunta dell'indisponibilità è il 31 marzo. Per l'antinfiammatorio da banco ibuprofene non ci sono previsioni. I medici di base sono in difficoltà con le terapie. È fondamentale una collaborazione stretta con il farmacista, direttamente con loro o anche tramite il paziente. Si va a modificare quella che è la scelta della molecola, cercando di mantenere una terapia congrua alla patologia in atto. E tutta la catena produttiva a essere inceppata, spiega Federpharma. Il fenomeno è più complesso, dovuto per esempio alla terzializzazione della produzione di principi attivi in paesi a minor costo del lavoro. Qui Cina e India la fanno da padrone. Che cosa fare? Innanzitutto noi abbiamo fortunatamente la disponibilità di numerosi principi attivi di farmaci equivalenti, che i farmacisti consigliano sistematicamente. Alcuni colleghi preparano addirittura alcuni farmaci antinfiammatori sotto forma di preparazione galenica. Mancano le materie prime per confezionare i farmaci, dalla plastica dei blister all'alluminio, ma anche la distribuzione in tilt con la logistica che subisce i contraccolpi del caroenergia. Grazie a tutti.